Buongiorno da Giuseppe Recca dalla redazione. Oggi è giovedì 21 settembre. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ieri è stato a Lampedusa per fare il punto sulla situazione nell'isola dopo la raffica di sbarche dei giorni scorsi e la visita del Premier Giorgia Meloni e del Commissario dell'Unione Europea Ursula von der Leyen. Ha riferito quali istanze durante la visita di mezza giornata raccolto dalla carenza di strutture sanitarie alla necessità di sgravi fiscali al 60%. Noi ci siamo, ha detto durante un'assemblea con la cittadinanza, faremo in modo di aiutare la comunità dell'Ampedusa. Un incendio la cui natura dolosa ha danneggiato l'automobile di proprietà di un'impiegata di 59 anni di Ribera. Il ruogo avvenuto in via Roma. I gnoti avrebbero cosparso la golf del liquido infiammabile per poi appiccare il fuoco. Le fiamme hanno danneggiato levemente la carrozzeria. La donna si è corta del ruogo e con mezzi di fortuna è riuscita a spegnerlo, indagano i carabinieri. Proposte sessuali in cambio del rilascio delle patenti rinviato al giudizio funzionario dell'Asp di Agrigento. Si tratta di Saverio Saverino, 69 anni, di Raffa Dali, dipendente ormai in pensione dell'ufficio patenti speciali, accusato anche di tentativo di violenza nei confronti di una donna e di traffico illecito di influenza per avere promesso l'interessamento di un fantomatico procuratore di Roma. Primo giorno di lavoro al Tribunale di Sciacca per il giudice Stefano Zammuto che dopo una lunga parentesi di quasi 15 anni ad Agrigento è arrivato a Sciacca dove svolgerà le funzioni di GIP e GUP. Dopo diverso tempo il Tribunale Seccense torna dunque a pieno organico. Consulenti del lavoro di tutta Italia si ritrovano oggi a Sciacca per l'annuale appuntamento con il premio intitolato al Compianto Giovanni Cumbo. L'iniziativa giunta alla settima edizione si terrà oggi pomeriggio presso il Mangia Torre del Barone Resort. Ci si confronterà sugli sviluppi della professione di consulente del lavoro. Miss Mamma Italiana 2024, una ribereza, ha vinto il titolo gold di questa speciale manifestazione. Si tratta di Florinda Mangione, 49 anni, insegnante, madre di due ragazzi. Per lei adesso si aprono le porte della finale. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto prove di abilità che rappresentassero la loro personalità. Calcio dopo la vittoria in campionato. Lo Sciacca vince anche in Coppa Italia. I Neroverdi ieri pomeriggio hanno superato allo stadio Gurrera per 2-1 il Profavara nel match di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Profavara portasse in vantaggio al 22esimo del primo tempo con il Retucci. Poi nella ripresa il pareggio dei Sacenzi al 71esimo con i Raci e la rete del successo al 93esimo con una spettacolare conclusione da lontano di Concialdi. Domenica prossima per i Neroverdi, trasferta di campionato a Caltanissetta. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero Whatsapp.